Prendiamo un caffè? Un attimo. Strano, mi chiedono di confermare subito la password per poter continuare ad usare il mio conto online. Posso? Garante della privacy. Ma qui, al distributore. Certo. Voi sapete cos'è il phishing? È una truffa digitale. Dei malintenzionati inviano messaggi ingannevoli chiedendo di cliccare su un link o di fornire informazioni per impossessarsi dei vostri dati personali come username, password o ping bancari. È pieno successo. Cosa posso fare? Controlli sempre bene da dove arrivano le richieste perché una banca o una pubblica amministrazione non le chiederà mai i suoi codici o dati molto personali tramite mail o messaggi digitali. E per sapere come difendersi può sempre consultare il sito del garante. Grande! Caffè? Ma lei sa tutto sulla privacy. Ci lavoro da quando sono nato e ora che mi conoscete potete contattarmi quando volete. Se proteggi i tuoi dati proteggi te stesso.